Il workshop GAR è un'occasione importantissima di confronto tra la comunità GAR e la comunità di tutti i gestori della rete, dei punti di accesso, dei centri di ricerca, dell'università, che sono i primi utilizzatori ma non sono utilizzatori passivi perché sono anche sviluppatori di nuove soluzioni che servono poi come feedback al GAR stesso. Quindi il workshop è un momento di incontro dove le presentazioni sono molto agili, molto snelle, molto interattive e servono a dare degli spunti appunto a chi lavora sul campo in modo che ci sia un feedback. Ha un grande significato e importanza insieme alla conferenza annuale perché l'evoluzione dei sistemi e della tecnologia è rapidissima, quindi è necessario crescere insieme perché molte delle attività si possono fare solo in una comunità di utilizzatori, quindi non soltanto centralizzandole in GAR e perché abbiamo bisogno di formare personale, dei giovani soprattutto, di cui sappiamo avere grandi bisogni per il futuro ma che non è sempre facilissimo arruolare. I temi di quest'anno sono i temi di frontiera, in particolare sottolineerei l'importanza che è stata data agli usi complementari che possiamo fare della rete che abbiamo. Abbiamo un'infrastruttura, la stiamo potenziando, la sappiamo gestire bene da tanti anni, adesso ci stiamo interrogando sia un miglioramento che è il nostro core business dell'infrastrutturazione ma anche dei tanti servizi che possiamo aggiungere, sovrapporre alla rete che utilizziamo, come per esempio ieri è stato presentato la possibilità di utilizzare la rete fibrotica anche come sistema di monitoraggio di eventi rari che possono avvenire sul territorio. Quindi questa di per sé sarebbe già una giustificazione per dire che questi workshop hanno un grande significato, aiutano il GAR a crescere ma credo che aiutino a crescere tutta la comunità scientifica. Quindi un grande grazie a tutti i relatori esterni e interni a GAR che rendono ricco questo workshop. Grazie a tutti i nostri amici.